Ciao ragazzi e ragazze, udite udite, una ricerca di Bain & Company ha scoperto che i giovani italiani under 35 sono tra i più stressati del mondo, nello specifico la generazione under 35 è una delle generazioni più stressate della storia, soprattutto in Italia, Giappone e Brasile. Ora, sicuramente questo articolo dividerà, ma io vorrei fare, o meglio l'articolo, i risultati della ricerca divideranno, ma io vorrei fare una riflessione, molto semplice. Non è che come sottolinea forse la ricerca e anche l'articolo di Repubblica che la riporta, questo centri qualcosa con la flessibilità, c'entri qualcosa con gli ultimi tre anni da un punto di vista lavorativo e anche scolastico, con delle generazioni che sentono forse di non avere il futuro davanti, come lo potevano sentire i genitori, i nonni o gli avi in generale, potrebbe centrare col fatto che in tutto questo, in tutta questa instabilità, talvolta alcune aziende non permettono loro di lavorare in maniera flessibile, chi lo sa? Fatemi sapere che ne pensate. Stop whining!